Musica Amici barbe capelli buonasera e ben ritrovati sull'onda di una bellissima partita quella di domenica tra Modena e Perugia al Pallapanini vinta dall'Azibut noi stasera continuiamo a parlare di pallavolo maschile diciamo questo che è già difficile trovare una donna al vertice di un club professionistico figuriamoci due e anche in questo Modena è molto speciale io saluto i nostri ospiti di stasera che sono qui alla mia destra Giulia Gabbana e Katia Pedrini rispettivamente vicepresidente e presidente di Modena Volley grazie per essere qua tutto bene Katia tutto bene? Tutto bene Paolo grazie a te Paolo Barbiera stasera avrei avuto bisogno di un estetista, di una parrucchiera ma il convento qualcosa l'ho fatto da giovane però non l'ho dimenticata non hai il microfono comunque comunque noi ci accontentiamo del barbiere e saluto anche che non è un estetista non è una parrucchiera Fabrizio Monari buonasera Fabrizio che mi aiuterà in questa chiacchierata che segna la presenza per la prima volta ai nostri studi di Giulia noi la ringraziamo per aver stato il nostro invito e voglio proprio cominciare da lei chiedendo come ti sei trovata in questa avventura modena tu sei vicepresidente nonché anche azionista della società ecco come mai questa scelta come sei stata trascinata in questo ambiente frizzante diciamo frizzante ah beh io ho conosciuto Katia tramite Salvatore e Rossini perché praticamente quando lessi insomma che Katia era riuscita a portare DHL come sponsor nella pallavolo ne rimasi molto colpita perché comunque era colpita da lontano colpita da lontano perché comunque amante della pallavolo anche se ero fuori da un po' di anni dopo aver chiuso la gabeca rimanevo sempre comunque sono sempre rimasta connessa alla pallavolo quando insomma di questa notizia scrissi a Salvatore dicendo se mi poteva dare il numero di Katia perché volevo farle i complimenti perché secondo me era un gran colpo una cosa molto importante per la pallavolo sì e una volta che l'ho scritto un messaggio poi insomma mi ha invitato a vedere una partita a Modena ci siamo conosciute e abbiamo iniziato a condividere le stesse passioni ci siamo e lei ha puntato molto sulla tua debolezza pallavolistica immagino no? un ritorno alle origini esatto noi abbiamo poi chiacchierato ci siamo confrontate da lì ha iniziato tutto insomma una sorta di rapporto molto molto intenso molto unito di fortissima stima e poi una cosa viene da sé quindi dovete dire che le Katia si è stata brava anche a coinvolgere una signora amante della pallavolo che sta contribuendo a dare una mano beh io ti devo dire che da questo punto di vista non è stato molto difficile cioè Giulia ha molti aspetti del carattere vicini ai miei ha dei modi se vuoi più urbani più garbati più ma è una vera passionaria quindi è in pratica una cosa che è venuta da sé è vero che fin dall'inizio la fascinazione di avere un'altra donna al mio fianco soprattutto una donna a tutto tondo insomma intelligente per bene è un'altra donna al mio figlio è un'altra donna al mio figlio è un'altra donna al mio figlio quindi c'è anche la prospettiva la proiezione una che comunque è nata con la pallavolo perché è una è una fetta importantissima della sua vita vissuta di fianco a questo grande amore che era il suo papà il fatto che lei era al corrente di tutto sapeva tutto del mondo della pallavolo pur avendo dovuto sopportare il grande dolore di dover chiudere quindi comunque non è che dici ho sofferto le pene dell'inferno basta non voglio più sapere di questo mondo e in realtà insomma anche l'esperienza di DHL lo sapete è stata un'operazione sicuramente assolutamente nuova nel mondo della pallavolo ma è stata anche un'operazione che poi ha portato tante complicazioni quindi insomma lei anche quell'anno lì mi è stata veramente molto 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 vicina dal punto di vista personale e quell'anno lì c'era solo ancora un grande gravissimo problema che lei divava a Trento cioè nel senso che la sua amicizia con Rado la portava e quindi ci ritrovavamo alle partite pur volendoci così bene a fumare come due turchi una da una parte e una dall'altra insomma questo è stato l'unico vero problema e poi certamente abbiamo condiviso il sogno di un progetto dove la capo della guida tecnica ci fosse un uomo come Rado Stoicev nel senso di proprio lui ecco ma tu ti favi Trento per quale motivo? nel senso che Gabeco e il vostro gruppo sosteneva, era un tra risponso? no abbiamo dato per un po' di anni la nostra acqua acqua paradiso e poi esatto cioè nasce la mia amicizia con Rado nasce dal presidente Mosna quando è morto mio papà che io mi sono trovata esatto mi sono trovata a prendere posto suo come presidente della squadra diciamo che il presidente Mosna era comunque molto amico di mio padre e lui mi è stato veramente molto vicino in quegli anni lì mi ha aiutato molto mi ha aiutato mi ha accompagnato in questo mondo che quando poi sono uscita e leggevo i commenti di Kate su un mondo maschilista o meno comunque era e forse lo è ancora ma comunque mi ha aiutato molto e nell'aiutarmi mi ha presentato anche Rado che era al tempo che allora allenava a Trento esatto e quindi c'era questa sorta di amicizia sia con il presidente Mosna che con Rado andavo a vedere spesso le partite che mi potessero aiutare negli errori a raddrizzare il colpo così loro sono state molto importanti da lì è nato questo rapporto che poi insomma è continuato fortunatamente non sei diventata socia di Trento perché diventava dopo un problema ci avranno provato immagino no? ma sì abbiamo parlato conoscendo le tue debolezze per la pallavolo ma sì abbiamo parlato poi insomma c'erano dei punti delle situazioni poi io evidentemente in quel momento non ero ancora pronta per fare questo passo avevo appena avuto Marcello che è mio figlio il primo che è il nome del papà sì esatto che ha preso il nome di mio padre e avevo appena chiuso la mia società quindi comunque preferivo siamo nel 2012 sono sbagliato nel 2012 e quindi preferivo tifare una squadra di amici che magari mettermi di nuovo in campo diciamo che da Milano a Modena Milano 30 è molto più comodo Modena dal punto di vista anche della distanza diciamo di sì e quindi insomma è tutto tempo è stata una questione di tempo quando mi sono sentita pronta e poi sicuramente insomma ci sono anche delle cose empatiche di conoscenza quando ho conosciuto Katia pronta o non pronta sì diciamo che sei arrivata in una stagione in cui la società, il club insomma non si è fatto mancare nulla perché è stata comunque una stagione anche abbastanza complicata frizzantina come dicevamo all'inizio diciamo che per chi viene da fuori forse non è abituato noi che siamo qua è vero Fabrizio sì ordinaria amministrazione è la bellezza anche di questa società qua da quando c'è Katia da quando c'è Katia non per meriti di colpe sue però diciamo abbiamo ricominciato a divertirci su base piuttosto regolare soprattutto non ci siamo mai mai sono proprio trascinati dalle vittorie io ho iniziato la trasmissione ricordando quella che è stata domenica di vincere il Barbiere una delle più belle partite che hai visto assolutamente sì che tra l'altro è stata non tanto utile per la classifica ma su me è utile per poter riavere lo stesso pubblico quando ci saranno i primi probabilmente hanno giocato così scolti non avendo niente a perdere tutte e due e loro liberi si vedeva che cioè non erano tesi sì diciamo che questa gente è andata via dal Palasport della Katia secondo me ripromettendosi di tornare perché dopo uno spettacolo del genere e questo bisogna sottolinearlo torneranno sarebbero fosse tornati anche con una sconfitta perché comunque c'è una cultura pallavolistica che va oltre il risultato però domenica siccome la gente è andata via contenta dicendo guarda due su tutte allora una che direi che c'era anche Giulia sulle scale abbiamo incontrato questi signori che ci hanno fatto tutti questi complimenti e la signora ha detto no no basta complimenti che sennò aumentano l'abbonamento allora io ho detto ma no aumentiamo l'abbonamento dipende sempre anche da che squadra dobbiamo fare e lei mi ha detto era una battuta io sono contentissima di avere di pagare l'abbonamento contentissima e l'altro è un messaggio di un tifoso che è venuto dalla Sardegna per vedere questa pallavolo nostra un messaggio di ringraziamento un messaggio adesso vabbè io ho questo legame particolare anche con la terra salda però insomma non deve essere comodissimo dalla Sardegna venire a vedere una partita e quindi qualcuno che ti scrive che ne è valsa la pena e che vorrà tornare appena possibile è un messaggio veramente molto bello sì tu Giulia hai il 10% della società questo corrisponde al vero anche perché non è mai stata ufficializzata questa cosa è sempre stato un aspetto che è stato raccontato e spiegato spesso da Katia ma sì perché è successo talmente in maniera naturale che in questa maniera naturale abbiamo insomma senza fare sulla stagione frizzantina invece sulla stagione frizzantina ma la stagione beh diciamo che vorrei tornare indietro un attimo per i motivi anche perché ho scelto di legarmi a Modena perché quando insomma ho conosciuto Katia e mi ha mi ha esposto anche il suo progetto quello che aveva in testa quello che è riuscita a fare a Modena che davvero conoscendo tantissime società della da sola da sola conoscendo tantissime società quelle che sono le società che fanno parte della lega pallavolo non c'è nessuna società come Modena e nessuno è riuscito a fare quella che ha fatto Katia per me lei è eccezionale in questo ho avuto una visione l'ha portata avanti all'inizio mi ricordo insomma in varie difficoltà non tutti magari le davano fiducia ma quello che è riuscita a fare è qualcosa di straordinario quindi secondo me c'è ancora una grossissima possibilità di andare avanti di creare qualcosa ancora di di maggiore sia per la città che per la squadra che per tutto insomma quindi questo era qualcosa di unico che non ho mai trovato in nessun'altra società oltre la persona che è Katia perché per me come si fa a non volerle bene come si fa a non volerle bene Fabrizio voi tamete vediamo le immagini della presentazione dell'inizio di maggio di questa compagina societaria con Stoice no approfitto per chiedere a entrambe se è vero che Stoice vi sgrida questa voce di Corredoio ma per cosa cosa fa ci sgrida ci frusta ci mette in castigo ci intima il silenzio stampa e non cioè voi avete chiesto il permesso a lui per venire qua oggi ovviamente e lui ci ha pensato oppure ha detto no non è che ci ha pensato però ha detto questo lo potete dire questo non lo potete dire questo ho capito fate le ocche questo è così siamo praticamente in un regime non para siamo proprio in un regime militare ho capito ho capito che vige sia in società che in squadra ovviamente sì però almeno è lineare è tutto lineare questa è l'unica cosa veramente lineare non sappiamo se scherziamo perché magari uno da casa dice tirando su male bisogna affidarsi delle sensazioni più che delle parole diciamo sto cogliendo qualche indicazione diciamo anche in questo modo poi è speciale diciamo le due signore che sono al potere al comando di questa di questa nave che che viaggia che viaggia domeniche si sono rivisti forse l'occhietto della tigre nella squadra quella che secondo me in realtà i segnali arrivati dalle ultime quattro partite contro le big sono quattro segnali unilaterali perché comunque Modena ha vinto a Perugia 3 a 0 ha vinto a Civitanova 3 a 0 in semifinale di Coppa Italia non si fosse scavigliato argenta lo ha detto Smani Guantorena ci sarebbe andato in finale io credo che finché Gino Sirci non cambierà ragione sociale la sua società attuale non vincerà mai più contro Modena quindi l'ultima partita è stata una vittoria 3 a 2 non da poco perché comunque Modena si vedeva che era una squadra ancora non fisicamente a regime secondo me adesso ad esempio Erwin ci mette un set a capire come sta la fascia addominale infatti primo set uno su 11 e poi attaccato col 60% magari ho impressione mia non so se avete ti guarda fa una telefonata chiede a Rado se può rispondere su questa domanda messaggio 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 va bene noi ci proviamo in realtà abbiamo un chip abbiamo un chip e arriva la scossa esatto va bene allora adesso sistemiamo i chip e noi ci fermiamo un secondo ma adesso dopo entriamo un po' nel vivo della nostra chiacchierata eccoci un momento in trasmissione il volley il modena volley al centro della nostra chiacchierata di questa sera con Katia Pedrini e Giulia Gabani il barbiere riposa perché ovviamente stasera te l'ho detto prima avevo fatto qualcosa ma ultimamente meglio di noi meglio di noi meglio di noi siamo tutti a posto il matto capelli c'è Fabrizio che potrebbe dire c'è poco che c'è ormai però vedersi dice tirare via qualcosa dedicata siamo alla fine della stagione regolare te l'ho chiesto nell'anteprima di oggi di darmi un voto su quella che è stata la stagione della tua squadra no ti ho detto che io voti non ne posso dare perché io sono il bidello il bidello non è il diputato tutti hanno il diritto di dare un voto io credo che ragionevolmente essere terzi rappresenti i valori sulla carta poi sappiamo perfettamente che per un sacco di ragioni si sono persi moltissimi punti ma a oggi siamo qua siamo terzi e con i playoff si comincia un altro campionato sì quest'anno Modena ha 57 punti i cui ne hanno ottenuti fino adesso in 25 partite di punti ne ha persi 11 in casa e 7 fuori questa è la classifica 57 si può rimanere cioè voi che mi taglile bene in diretta no 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 ci vuol solamente sottolineare l'erero statistico che Modena ha perso 11 punti in casa alcuni per ragioni abbastanza note dovute anche agli infortuni pensiamo alla partita e al punto perso in casa con Vibo però sono 3 con Padova 2 con Tredo 3 con Lube 1 con Milano 1 con Perugia e 1 con Vibo solo 7 quelli punti persi fuori avendo vinto a Perugia e a Civitanova questo ha dato sicuramente spessore alla stagione di Modena i punti fuori sono 7 2 a Trento 1 a Monza 2 a Milano 2 a Piacenza per dire che purtroppo questi punti buttati via potevano cambiare questa classifica e dare la possibilità a Modena di trovare quel secondo posto che avrebbe avuto mille significati in più in vista anche dei playoff la possibilità di una gara decisiva in semifinale in casa visto che inevitabilmente ci sarà ancora Civitanova un incasso in più per la società eccetera ma è andata così no? vero Cati? sì è andata così e quindi credo che adesso si debba guardare una partita alla volta e stare concentrati e dare il massimo ogni volta allora per chi l'avesse persa questa partita che è andata in diretta sulla RAI domenica che TRC ha già mandato in onda diverse volte vediamo questa breve clip che ci ricorda i momenti salienti di questa straordinaria partita tra Asimov e Perugia grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Sì, sono stati anni veramente bellissimi, è nata questa avventura della pallavolo, noi la sentivamo, io poi sono cresciuta con questa passione di mio papà, veramente che mi scorre nelle vene e è stato più sì, non per vincere, non per, ma per qualcosa per il sociale, per portare lo sport per i giovani. Io mi ricordo che quando venivano al palazzetto andavano a mio papà, lo ringraziavano. C'è un imprenditore che restituisce al territorio quello che lui ha ricevuto, che è una cosa che sembra banale, ma è molto importante e che non sempre succede. Esattamente questo. Sono partite, essendo anche coinvolta, essendo coinvolta anche dal punto di vista imprenditoriale. La prima partita... Sì, a Milano a vedere gli allenamenti. Sì, a me piace anche molto vedere gli allenamenti, ero abituata, quando vivevamo a Montichiari, spesso con mio papà, quando finiva l'ufficio, mi prendeva a casa, andavamo a vedere gli allenamenti. Vieni a Modena in treno? No, vengo in macchina. In macchina. Sì, sì, mi muovo. Quanto tempo impieghi da Milano a Modena Nord? Dipende. No, sai perché? Gli ha detto Leo che sei un pilota di Formula 1. No, mi dicono che, insomma, diciamo che... No, vabbè, è... Del limite del codice della strada... Il mio papà mi hava molto guidare, quindi ho preso anche questa passione... Ho capito, ma guidare non intorno a una casa, ti piace, insomma... Sì, mi piace. A me hanno raccontato di un viaggio da Milano a Modena, tu alla guida, con Leo Turrini e Katia dietro, nel posto del bimbo. Tu sei giallino. È stato un viaggio divertente, anche questo frizzantino come... Ma anche per loro è stato divertente, sì. Sì, sì. Abbiamo riso tutti i viaggi. Mi ha detto che... Anzi, mi ha salutato l'altro giorno, domenica, dicendomi Vettel ti saluta. Vettel ti saluta, qui tolto. Però, sì, quindi faccio 1 ora e 45, da 1 ora e 50, dipende dal traffico. Sì, bisogna dichiarare assolutamente questo, non... Esatto. E quindi sì, spesso andavo a vedere gli allenamenti, finito quando finivamo di lavorare o poi quando siamo trasferiti a Monza, era un po' più distante, ma se no, tempo ufficio, palazzetti montichiari erano 10 minuti, quindi noi eravamo spesso là. E quindi lo faccio anche qui a Modena. La prima partita che ho visto a Modena, dopo che ho partorito, perché io sono arrivata un po' lungo... Sì, che hanno dato il tempo almeno per partorire, no? Esatto, tempo di partorire, fare le prime cose, è stata con Macerata. E infatti ho detto a Katia che avevo il cuore che usciva. Allora, io sono in modo incuriosito di ascoltare la sua storia, anche perché i nostri tifosi la conoscono poco, invece è importante conoscere un personaggio importante che io mi auguro possa continuare a dare ancora di più in futuro alla Modena Voli. D'altro canto c'è soddisfazione, no? A lavorare, a investire anche in una realtà come questa. Sì, molto. Diciamo senza altri fini, perché credo che siate uniti dal fatto anche che tutto questo avviene per cura. Sì, siamo per passione. Sì, sì, te lo dico io, perché ce lo diciamo anche. No, la pallavolo è una... È una passione, non c'è, non ci sono tante parole, a volte si cerca di spiegare, si va in cerca dei significati, di qualcosa di particolare, invece è veramente pura passione. Fabrizio. Io sono pronto anche con le domande più di estrema attualità, mi devi fare un cenno tuo convenzionale. Puoi andare, puoi andare, ok. Volevo chiedere alla Presidenta se preferisce, prima domande legate a notizie o domande legate a gossip? Ma non preferirei niente, però... Direi che visto l'ambiente del barbiere fosse il gossip è quello che facevamo. No, ha fatto un gossip questa mattina clamoroso legato a una delegazione russa al Palapanini tra sabato e domenica per corteggiare Erwin Gapè. Allora, io per come la so io la delegazione è qua, era qua per la tappa della New Volleyball League. Ok. Che sarà il 22, 23, 24 giugno, se non sbaglio, no? 24, 25, 26. Sì, un weekend di giugno. Il nuovo nome della World League sostanzialmente. Esatto. Che è un altro regalino che questa città... Anche perché, scusate, ma se veramente questa delegazione fosse stata a Modena per Erwin, ma secondo voi si presentano a Modena al Palazzo il giorno della partita contro Perugia? Sì, effettivamente. Cioè, io credo che qua ci sia più... Bah, no, basta, basta dopo Rado non vuole. Basta con dei baffitini... È arrivata la scossa. È arrivata la scossa, basta, lo devo fermare qua. Vabbè, quindi niente delegazione russa a caccia di Ingapè. Allora, per noi no. Secondo Gossi, sempre più o meno stessa fonte, il discorso sulla presunta interfezione... Sir ci ha rilasciato un'intervista bellissima in cui ha detto che Modena si è offesa perché abbiamo provato a rubarla in gaffetta e allora adesso provo a rubarci Anzani. A parte il fatto che ci sarebbe una leggera sproporzione almeno al momento. Anzani però è un giocatore che è in scadenza di contratto per volontà di Sir. Nell'eventualità, nell'eventualità ci sarebbe questo piccolo dettaglio che un giocatore sotto contratto e un giocatore libero, mi pare siano due aspetti molto diversi. Modena Volley nella mia persona o nella persona di Giulio, nella persona di Sarto, nella persona di Rado, non si è mai permessa di contattare direttamente un giocatore di proprietà di un'altra società. Mai. Sì, quindi questo lo dico e lo sottoscrivo e non ho più niente da aggiungere su questo argomento. Anche se in scadenza di contratto? Anche se in scadenza di contratto. Cioè le operazioni dei giocatori con procuratori vengono sempre ed esclusivamente filtrate dal procuratore, anche perché ormai i giocatori hanno imparato a rispondere di parlare col procuratore. Quindi da un lato diventa perfino controproducente. Siamo ancora nel gossip? No, no, poi si può andare avanti all'infinale. L'ultima cosa che volevo chiedere sulla stretta attualità è stata legata al ragionamento che ha fatto Bruno l'altro giorno. Ha detto io voglio restare, non mi interessa la suggestione di Parigi, le decisioni per il futuro andranno prese prima dell'esito della stagione. Che cosa si può dire che non si è ancora detto dell'apporto tramoglio? Suggestione di Parigi lo spieghiamo magari. Sì, c'è questa ipotesi che avendo Parigi l'Olimpiada nel 2024, un gruppo di imprenditori voglia fare uno squadrone per avviare il discorso olimpico, voglia prendere Ngapet, Grebennikov, Lukas, Bruno, poi tutti ovviamente Neymar a giocare, a fare i bagare, eccetera, a mettere in radiocronaca però. Lo ZAR, sì, ce ne sono. Lo ZAR, sì, tantissimo. Ma lo ZAR è proprio quello delle russie. No, cosa si può dire di questa cosa qua? Allora, si può dire che questa suggestione ha circolato per mesi e riguardava la proprietà catariota del Paris Saint-Germain che volesse o potesse o desiderasse replicare una squadra di pallavolo. L'unico veramente affascinato da questa ipotesi, per ovvie ragioni, era Erwin. Nello stesso tempo, se questa ipotesi si fosse concretizzata, diventava molto complicato come dire, convincere Erwin a non andare a Parigi, insomma, a Francia, a Parigi. Cosa sua, diciamo. Allora, io credo che Bruno, molto più concreto, solido, Bruno è anche una persona molto intelligente, quindi a questa cosa secondo me non ha mai creduto più di tanto. E poi, insomma, per Bruno esiste il Brasile oppure Modena, quindi è chiaro che Bruno è contento di giocare con Erwin. Bruno è venuto a Modena perché Modena per lui è l'altra casa, però è lontano da casa, quindi se è qui, è qua per vincere, è qua per regalare a Modena un sogno ed è qua di nuovo. E dal punto di vista personale, queste sono parole sue, lui è qua per Erwin e per me. Questo Bruno dice. Quindi ne parlerete, lui ha un'opzione da esercitare per i prossimi due anni, il suo contratto era di un anno più un'opzione per i prossimi due, pensi che ne parlerete prima dal fine dei playoff oppure un argomento... Ma allora, voi non dovete pensare che con un giocatore come Bruno ci siano dei compartimenti stagni, un giocatore come Bruno adesso è concentrato assolutamente, sempre perché vuole vincere, vorrebbe provare a vincere già da quest'anno, no? Quindi Bruno è Bruno, quindi state tranquilli che nel momento opportuno con Bruno affronteremo il tema e subito dopo me, la Giulia, Rato, Bruno e pochi altri, altro, lo saprete. Giulia, io ho notato chiesto prima il voto alla stagione, tu per un voto non lo devi dare, un voto fino adesso della stagione di Modena. Non so se anche a me arriva questa scossa. Puoi farlo con le dita, senza dire. Senza, lo posso mimare. Diciamo che tra il 7 e il 7, 7 e mezzo, più o meno può essere questo il voto. Ma sì. Se avessero 10 da primi, 8 e mezzo da secondi, secondo me Modena poteva arrivare. Diciamo che ci sono stati dei punti persi legati a... Però fanno parte dell'avventura di una stagione, insomma. Possono essere alti e bassi, situazioni sfavorevoli, infortuni. Sì, però diciamo che Perugia e Civitanova certe partite non le perdono, no? Modena le ha perso invece. Buono. Ma non è vero, però Perugia ha perso anche sia con noi all'andata che con noi. Sì, sì, ma ha perso con una grande squadra. Cioè, volevo dire che Modena purtroppo ha buttato via dei punti con squadre medie, medio-basse, tipo Pado. Però sarebbe stato peggio vincere magari con squadre medio-basse e prendere delle legnate nei denti. Non lo so, non lo so. Perugia è una squadra che non ha sbagliato il risultato. Io avrei preferito Modena seconda che terza. Perugia è una squadra... Ebbè... Pur perdendo, avrei preferito perdere una partita in più con Perugia e vincere un'altra che mi avesse potuto permettere di arrivare a seconda. Secondo me Perugia è una squadra che in assoluto non ha mai sbagliato le partite contro le squadre. Stavo per dire piccole, diciamo dal quarto posto in giù, le ha battute tutte, 3-0, 3-1. Sì, perché è stato un bel campionato. Ha fatto un bel campionato. La Lube ne ha sbagliato un paio, ha preso un 3-0 pesante a caso di una squadra in bassa classifica. Ha perso 3-2 a Castellana Grotte che mi pare un fatto singolare. Io su Modena facevo un calcolo. Tolto il botto di infortuni tra Milano, Vibo e Trento e tolta, possiamo definire, la lervinata pre-Padova, Modena avrebbe 1, 2, 3 punti in più della Lube in questo momento. Questo sarebbe una teoria. Senza una caviglia di argento, vabbè che poi, come al solito discorso, se mia nonna avesse una ruota, una cariola, allora insomma. Sì, diciamo che ci sono state alcune partite per infortuni, quelli capi in una stagione, quella con Padova è assolutamente ingiustificata. Se fosse nemmeno, forse anche la partita persa a Piacenza, tu c'eri. No, a Piacenza non c'era, però mi hanno detto sì, esatto, che è stata una di quelle partite. Scusate, ma voi avete paura per fare la bella in casa, ma se abbiamo vinto sia a Civitanova che a Perugia, fuori casa. Infatti ho sottolineato che Modena ha perso più punti in casa che fuori, questo può essere un segnale in vista dei playoff. Una breve pausa. Dunque, io ho parlato, però non ho strappato il voto di Giulia alla stagione di Modena. Che voto diamo fino adesso? Da 7 all'8. Mi pare che Stoicev, quando è venuto qua, aveva dato un 7, mi sembra, no? Sì, forse sì, forse è un 7. Ci sta un 7, no? Sì. Come sta attaccati a questa stagione mettere insieme Stoicev, Bruno e Gappè? Più difficile di quello che immaginavi oppure no? Ma, guarda, quando fai una scelta del genere, secondo me, pur con tutto l'ottimismo del caso, no? Perché se vai in questa direzione è perché ci credi. devi essere anche preparato ad affrontare delle scosse di assestamento più o meno ravvicinate. Cioè, è una sorta di sciame sismico. Io avrei il desiderio che Rado riuscisse a farsi conoscere di più dai ragazzi. perché la persona che viviamo noi, a parte così, nei momenti delle frustate, in realtà è poi una persona che dà veramente tanto, anche in termini di relazione personale. Cioè, Rado è una persona molto profonda. Rado è una persona con delle dolcezze, con delle delicatezze, delle attenzioni e delle tenerezze che probabilmente viene molto difficile immaginare per chi lo vede esclusivamente in campo o anche in allenamento. Cioè, veramente, tante volte a guardare l'allenamento sembra di essere nel cortile di una caserma. Ma noi che lo conosciamo sappiamo che tra l'altro lui ha anche una capacità empatica fortissima con i bambini, con i ragazzini. C'è una formazione dove l'autorevolezza e l'autorità potrebbero ancora un pochino separarsi, secondo me, ma Modena piano piano, secondo me, lo porterà ad aprirsi un pochino di più. Cioè, Rado è anche molto intelligente e dà, come capita alle persone intelligenti, spesso delle cose per scontate. Mentre invece... Tipo? Tipo? Ad esempio? Ma ti faccio l'ultimo esempio. Cioè, Rado, a parte che parlando poco, diciamo che si presta anche alla libera interpretazione e poi di chi scrive. Quindi che cosa succede? Succede che i ragazzi tendono ad avere le informazioni da quello che leggono, che siano i giornali, piuttosto che i social, piuttosto che... Quindi, notizie e informazioni che intanto non è necessariamente detto che siano vere, comprese tutte quelle di mercato, comprese... L'ultimo esempio che mi viene in mente è il discorso legato al fatto che siano necessari check-up medici molto approfonditi in sede di sottoscrizione di contratto con un giocatore. Che è un argomento giusto, ma molto delicato. No, allora, lui ha raccontato una cosa vera di cui noi parliamo da un anno e mezzo. Il problema è che, sempre nella pallavolo, non è così facile come succede nel mondo del calcio, per esempio, uno screening o un check-up che vada così a fondo. Insomma, è una cosa che va decisa, strutturata, eccetera, eccetera, ma fa parte di uno di quei famosi 38 processi bulgari in bulgaro che lui ha scritto. Quindi ce li svela solo un po' alla volta dove, giustamente, Rado dice tu non puoi avere dei super campioni con degli ingaggi stratosferici e avere degli staff tecnici o medico-sanitari di basso o medio livello, no? Perché tanto vale la squadra, tanto deve valere lo staff e così è. Però ci sono delle procedure da mettere in atto, ma era una riflessione organizzativa. I ragazzi, ovviamente, cosa dicono? Ma come? Allora il coach dice così, vuol dire che noi siamo arrivati rotti. Allora, qualcuno è arrivato che non era in perfetto stato, ma non è che non l'avessimo visto. Diciamo che arrivano da quattro mesi con la nazionale e ci sta. Questo è il problema. Questo è il problema. Ma questo è un tipo di mentalità che devono capire. Finiscono il campionato e vanno in nazionale. L'altra sera io e Giulia eravamo a cena con Chico Blengini e lo stesso Chico Blengini chiede che tra la fine del campionato e l'inizio dell'attività della nazionale ci possa essere almeno un mese in cui questa gente si riposa, perché altrimenti è assolutamente un gioco al massacro. Sì, quello che diceva Katia prima del rapporto tra Stoicev e i giocatori, una volta poi dipende anche uno in che misura riesce a recepire i messaggi della natura. Sei ben predisposto a recepire quello che può essere il carattere anche come ha citato prima Katia. Capire se la squadra è in grado di raccogliere questo messaggio anche di uno Stoicev diverso rispetto a quello che noi vediamo. Ma questo penso che poi venga anche con la conoscenza. Io vedo che comunque da inizio campionato le cose sono evolute. C'è stato un positivo sicuramente. c'era anche, quando poi si passa un grosso gruppo, comunque la maggior parte del gruppo cambia anche allenatore, vari modi diversi di allenare, di porsi, di relazionarsi, devono anche riprovare. Poi in questo caso vuol dire con tutto quello che si è detto. A conoscere un nuovo allenatore, esatto. Poi insomma... Perché poi c'è anche questo aspetto che questi giocatori... Diciamo che magari ci sono anche dei pregiudizi a volte che arrivano prima di conoscere la persona. Ci sono giocatori che arrivano quasi a ridosso all'inizio della stagione. Io immagino le stagioni del calcio. Ero Fabrizio che si comincia l'attività a luglio. Qui c'è più di un mese, un mese e mezzo tra ritiri. In modo che si possa conoscere il gruppo, no? I giocatori si conoscevano di sicuro. Però arriva un nuovo staff. Stoicev in particolare è un soggetto che comunque suscitava curiosità da parte di tutti. E non c'è stato il tempo, no? Alcuni giocatori l'hanno conosciuto una settimana prima. Sì. L'inizio campionato. Per capirsi bisogna sempre conoscersi e bisogna che lo sforzo venga da entrambe le parti. Questo sempre per... Poi quello che io credo di avere imparato in questi anni e di condividere con Giulia Arado, ma lo stesso Sarto che è stato giocatore, ha avuto esperienza. Non è che l'allenatore e i giocatori debbano essere amici. Non è questo. L'importante è che ci sia reciproco rispetto. Stima. Rispetto, stima e, come dire, la fiducia nel seguire le competenze e le indicazioni tecniche del coach. Esatto. E anche su questo ci può essere un flusso di informazioni o di suggerimenti che possono andare da una parte e dall'altra. perché credo che ogni squadra possa avere determinate caratteristiche o determinati elementi che hanno bisogno di alcune cose, meno o più di altre. Fabrizio? No, io credo che... No, al limite per condividere una sensazione su questo argomento. Io qualche settimana fa, qualche mese fa, per le sensazioni mie, ero abbastanza convinto del fatto che questo gruppo di giocatori, per come lo conosciamo oggi, sarebbe cambiato radicalmente nel corso dell'estate. Cioè, avevo la sensazione che stoici a aver messo mano in modo corposo. Oggi ce l'ho molto meno, questa sensazione. Io ho la sensazione che lui sia più contento di continuare il percorso che ha cominciato. È fondata... Posso consigliare un buon analista? No, no, parlo di sensazioni mie personali. Ma, allora, è chiaro che nel corso dell'anno proprio hanno luogo tutti gli assestamenti, si approfondiscono le conoscenze. In realtà questa squadra è stata fatta in assoluta condivisione, con Giulia, con Rado, con Sarto. Quindi non è che qua ci siano dei giocatori che Rado non voleva, perché assolutamente, insomma. Quindi non c'è la volontà di crescere e la partita di Perugia, secondo me, è una partita dove io, al di là dell'MBP, Attine, che è un giocatore che è impossibile non amare, perché è un giocatore che si ammazzerebbe per la squadra, come tanti. È un giocatore che non, come dire, non ama le luci della ribalta in modo particolare. È un giocatore che fa legna, sempre. È sicuramente anche uno straordinario oltre, nonostante sì, sì, io abbia letto anche del battibecco con Rado per la ricezione, io non me ne sono neanche accorta, ma io avevo una sorta di paresi. È stata una cosa bella però quella, hai riuscito a far arrabbiare oltre e poi i risultati li avevamo visti sul campo. No, ma poi Rado ha detto se mura e attacca così, qua anche non dicevere, perché non è proprio quello che si chiede a un centrale, quindi in realtà anche stare sempre a fare la punta, quello che succede durante la partita, magari è rischioso per le interpretazioni. Sì, sì, chiaro. Però io fondamentalmente ho visto che abbiamo un battuto Perugia che ha giocato con il sestetto titolare, con Binali, Bossi, Argenta e poi abbiamo il nostro stratosferico Mazzone al primo anno da titolare che dopo quattro mesi che era a Modena ha comprato casa. Senti, ma tu quando guardi la partita cerchi di scrutare anche gli sguardi tra stoice e ve... No, ho lei, ho lei, ho lei che lo fai. Tra stoice e ve lo faccio. No, intanto io sono mio come una talpa, quindi... Quindi ti riferiscono? Quindi ti riferisce Giulia e io osservo molto? Lei vede tutto, è proprio come potrebbe lavorare per la Digos. E tu Giulia osservi? Vede tutto, anche lo sguardo laterale, tutto vede. Tu osservi? No, io cerco di controllare il battito, la sudorazione, il mio battito, la sudorazione. Per una questione di salute personale, no? Sì, sì, io sono domenica, io sono rimasta paralizzata, poi a un certo momento quando sento la tensione comincio a fare i giochini cretini sul telefonino per, un po' per cabala, un po' per scaricarmi, un po' per... E Giulia invece... Però guarda sempre, perché ogni volta che mi avvicino a lei l'ho detto hai visto? Lei, sì ho visto. Oppure bleffa, dice no, hai non l'ho visto. No, perché tengo la testa così, un po' perché anche, io so insomma di avere questa faccia da cui si leggono le emozioni, eccetera, eccetera. E mi sento anche con un po' esposta, un po' indifesa, no? Perché la vivo talmente tanto che vorrei non mi vedessero, ecco. Allora, noi ci dobbiamo fermare, Fabrizio, siamo già alla terza fascia, iniziamo la quarta, abbiamo portato a casa delle notizie fino adesso? Qualcosina, facciamo l'ultimo tentativo. Facciamo l'ultimo tentativo dell'ultima parte. Andiamo a caccia di notizie, Fabrizio. Modena è terza, ha acquisito quasi certamente il diritto di prendere parte alla prossima Champions League. Modena farà la Champions League se ovviamente avrai... A questo proposito, stamattina Rado, in quel momento, mi stava frustrando, no no, mi ha detto scusami bene come funziona il meccanismo della Champions, allora ho detto guarda il meccanismo della Champions funziona, che sono le due squadre che vanno in finale, no? No, 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 lui ha ragione, perché ogni tanto in Lega si cambiano i criteri a seconda di come si pensa, ci si interisce tre anni prima. E allora, io ho detto sono in Champions, ci dovremmo essere a meno che Trento non vada in finale. Silenzio. E se andiamo noi in finale? Eh, se andiamo noi in finale siamo in Champions. Ok, quindi siamo e parteciperemo alla Champions. Io continuo a pensarla come l'ho sempre pensata, ma i grandi campioni vogliono la Champions e il mondiale per il club. Credo anche Giulia voglia giocare la Champions, no? Non lo so, vuole giocare la Champions, Giulia, ma è rilevante cosa vogliamo io a lei. Come è rilevante? È rilevante, noi dobbiamo passare per i bonifici e loro decidono. Sì, senti Katia, Giulia a 10%, c'è ovviamente il desiderio, credo, di allargare la compagnia societaria, anche ad altri soggetti, ad altre persone, a che punto siamo? Noi siamo, lo diciamo praticamente da un anno, noi siamo aperti a chiunque condivida assolutamente le linee guida e il progetto anche stilato nei 38 processi in bulgaro scritti da Rado. Devono venire sottoscritti, ma quello che ci interessa è che siano persone per bene, questo è assolutamente necessario. Sì, diciamo che Modena è un po' così, no? Nei confronti, citavamo prima l'esempio di suo papà che ha ricevuto dal territorio e ha dato dal punto di vista del sostegno a uno sport professionistico come quello di Adela Gabecca Montichiari. Qui a Modena c'è un po' più di difficoltà, no? Allora, c'è un po' più di difficoltà, ma secondo me piano piano le cose stanno cambiando. Paradossalmente c'è forse o c'è stata più di fidenza, credo che una partita come quella di domenica sia la risposta a chi potesse ancora nutrire qualche dubbio. Penso che insomma abbiate già dato altri segnali. La strada è stata intrappresa. Quindi tu pensi e speri di avere altri partner al tuo fianco? Ma te l'ho detto, i partner solo ed esclusivamente dal punto di vista societario, se hanno queste caratteristiche... Se voi volete persone per bene... Sì, questo è necessario, se no salta per aria tutta un'altra volta, quindi l'esperienza qualcosa deve insegnare, no? E siccome il progetto è molto ben definito e dal punto di vista sportivo e dal punto di vista del percorso che stiamo facendo comunicazione, marketing, quello che riguarda le possibilità e le potenzialità di ristrutturazione del palazzo... Cioè, stiamo andando avanti in molte direzioni, quindi di questo sono fiduciose. L'entusiasmo degli sponsor si percepisce, quindi noi siamo fiduciose rispetto al fatto che... Perché siamo sempre lì, Modena vuole giocare per vincere. Sì, quindi non ci saranno punti interrogativi alla fine della stagione, appena cadrà l'ultima palla, voi lavorerete già per il futuro, non ci saranno... Lo stiamo già facendo. Immagino di sì, avete già fatto anche la squadra, immagino per il prossimo anno, ma... Beh, adesso non esageriamo... Era sempre quel tentativo di andare a catturare le notizie, ma ovviamente non possiamo dire stasera... La nostra squadra è questa, è quella di oggi e dobbiamo pensare a giocare contro Milano. A tal proposito, due domande flash, la prima è cosa pensate di fare con Silverone, cioè Andrea Argenta, intanto se ovviamente c'è in barra il discorso del rinnovo perché va in scadenza e poi quale può essere il suo ruolo futuro, se è uno che si può già prendere delle grandi responsabilità. Seconda, visto che c'è quest'ultima finestrella aperta per qualche giorno, se è possibile che possa arrivare un rinforzo prima dell'inizio dei play-off, visto che poi si chiudono i tessere. Allora, ti rispondo, parto dall'ultima, non ci sono rinforzi in arrivo, stiamo arrivando al completo recupero di Giulio Sabbi. Molto importante. Che mi auguro per me, ma mi auguro tanto anche per lui, perché Giulio è veramente un ragazzo di grandissima qualità, ha sofferto molto anche psicologicamente, insomma, perché poi... e quindi io mi auguro e gli auguro di tornare presto protagonista. Andrea Argenta è stato sicuramente una rivelazione per i più. Noi sapevamo che era un ragazzo di grande prospettiva e rispetto a cosa succederà dipenderà anche, credo, dalle volontà del ragazzo. Perché poi, insomma, c'è chi dice che per un giovane come lui restare in un grande club e farsi allenare da un grande allenatore con dei talenti, non so, un palleggiatore come Bruno, sia ideale. C'è chi dice che invece è molto meglio che vada a giocare magari in una squadra di più bassa classifica. Quindi dovranno incontrarsi le volontà della società, del ragazzo e del procuratore. Sedi Giulia, chi è più forte tra Nelli e Argenta, secondo voi? Ah, beh. No, non so, non devo chiedere a Rado. Sedi Giulia, ma a dicembre quando è successo quello che è successo, no? Tu hai temuto che crollasse un po' questo castello di Modena a Ludo al momento in cui Ingapea ha detto io vado via, poi dopo sono stati i giorni frenetici, quelli a ridosso del Natale, che tu hai vissuto e seguito molto da vicino. E l'abbiamo vissuti insieme. Non si preoccupa, ma questa non si preoccupa di niente, non hai capito, si preoccupava che aveva fame. E alle due di notte, alle due di notte, che eravamo ancora al palazzo, lei è riuscita, lei è riuscita, eravamo ancora al palazzo. Alle due di notte, a parlare. Chi c'era? Io te... Rado, c'era Ivan, Ivan, forse. Sì, Dario, non mi ricordo. Non mi ricordo, comunque. Alla importanza a chi c'era. Ancora lì, lei tutta da sola è riuscita a trovare qualcuno che ci ha portato delle piadine. Perché a quell'ora lei aveva fame. Lei è un po' come i neonati, deve mangiare ogni due ore. Ho capito, se lo può permettere, vedo che non... Esattamente, purtroppo. E quindi, a quell'ora, no, saltando la ciena e saltando tutto... Sì, ma io non volevo sapere cosa ha mangiato. Non si preoccupa, non si preoccupa, affronta, affronta. Beh, insomma, diciamo, è una cosa per tu che hai vissuto anche il ruolo di presidente della Gabecca, dove queste cose non succedevano, immagino, no? Bisogna venire a Modena per... Ma ci sono, magari non succedono perché non escono, ma succedono in tutte le società. E' la teoria di Stoic questa qua, cioè, certe cose succedono in tutte le società, ma a Modena escono fuori dallo spogliatoio, vabbè. Ma no, io non ero preoccupata. Abbiamo, insomma, cercato di affrontare la cosa nella maniera più serena, cercando di non perdere la testa, di vedere, insomma, cos'era successo, e poi dopo, poco dopo, insomma, le cose sono immediatamente rientrate. Quello che è successo, Fabrizio, si sa e non si sa, è sempre il discorso di prima, le cose escono fuori, però, diciamo, è stato un momento in cui si è temuto che quest'automobile sbandasse e finisse anche fuori strada, no? Beh, secondo me si è più avuta la sensazione che fosse la goccia che fa traboccare un vaso che forse, nella convinzione collettiva, i nervi si stava già riempiendo da tempo. In questo devo dire che Stoic aveva dato una dimostrazione di saper prendere le distanze da un momento a sangue caldo, abbastanza importante. Io personalmente sono convinto che uno con Megapet, quando ha una reazione di quel genere, vada sempre preso un beneficio di inventario, no? Non è uno, probabilmente, che perde le staffe in modo lucido, in modo freddo. Ero più preoccupato per l'impatto che avrebbe avuto sulla stagione o sulla prossima, ma che andasse via a dicembre, io sinceramente non ce l'ho mai creduto. Sarebbe tornato alla fine, sono sempre stato convinto. O ha rischiato veramente di non tornare? A lei ti guarda, ma non risponde. No, io non posso sapere esattamente che cosa si è passato nella testa di Erwin, ne sono sicurissima che lo sappia lui, insomma. Quindi quello che ha detto Giulia è esattamente quello che è. Cioè abbiamo cercato di reagire con lucidità allo shock, perché in effetti uno dice che stai prendendo in giro, è successo davvero, no? E sicuramente anche quella di... Non so, poi forse sono passate 70 ore, a noi ci sono sembrate 7000, ma non è che... Non è settimane. No, perché... È stato un weekend di paura, un weekend natalizio di paura che si è completato nella partita poi con Padova. Sì, diciamo che se ti devo dire, a oggi il ricordo che mi fa più male è la partita contro Padova. Ecco, di tutto... Anche me. Perché sai col tempo si stempera, no? E invece la partita contro Padova... Si mana. Lo smarrimento, i fischi, insomma, questo è stato veramente... Forse è stato un momento peggiore. Lo striscione degli irriducibili, insomma, c'è stata una serie di cose che mi ha fatto veramente stare male. Allora, siccome l'abbiamo evocato, ho ricordato tante volte stasera, perché lui effettivamente è qua da qualche parte, sentiamo cosa ha detto Stoic quando è venuto in termissione da noi a proposito di Katia. C'è stata comunque sempre da parte del Presidente un'ammirazione dei suoi confronti a di sopra di ogni sospetto e anche fatti in tempi non sospetti. È un rispetto che è reciproco e che lei mi ha dimostrato forse in questa occasione, anche dopo la vittoria nostra a Modena. Certo mi fa piacere quando soprattutto i Presidenti mi stimano, però è stata una scelta che è maturata. Ma secondo lei perché Katia Pedrini è la scelta? Perché è uno che ha vinto tanto? Perché è bravo? Perché per quale motivo? Secondo me per il modo, non tanto solo per i risultati. Per il modo in cui lavora? No, per il modo in cui cerco di costruire la vittoria. Perché per me questo è importante. Secondo lei la signora Pedrini aveva bisogno anche che qualcuno facesse rispettare un po' più di discipline in questa squadra. La disciplina e la follia di questa squadra è stata in certi momenti forse anche l'aspetto positivo, quello che ha permesso forse di ottenere determinati successi. Ma forse alla lunga c'era bisogno di una persona forse come lei. Non so poi se è riuscito. No, non so se ha bisogno di una persona come me. Ma la risposta di questa sua domanda secondo me l'ha data Michael Jordan. Con la famosa frase sua che il talento ti fa vincere una partita, ma l'organizzazione di gioco e gioco di squadra ti fa vincere un campionato. C'era ancora da carburare quando abbiamo fatto questa intervista. Adesso è un po' più sciolto, però c'era necessità di... No, l'unica ragione per cui ho preso Rado è che è un gran figo. Fabrizio, abbiamo altre notizie da andare a cercare. Champions League si fa, dopo che stamattina Katia ha spiegato a Rado qual è la regola in modo tale che quando fa... Bello pensare a questo allenatore che è sempre entrato in Champions sfondando la porta e non sapeva le squadre di rincazzo, non sapeva come ci arrivassero. No, altre cose particolari. C'è questo mini abbonamento che avete stato promuovendo nei confronti dei vostri tifosi, che è una scommessa, nel senso che nessuno sa quante partite Modena farà nei quarti. Abbiamo la certezza di una sola per il momento che è gara 1. Ma visto che ci avete già più di 3.000 abbonati, il nostro posto lì per fare la radiocronica, quello è confermato. No, assolutamente no, dipende quanto ce lo pagano. Uno comunque acquista questo mini abbonamento e niente, poi dopo incrocia le dita. Incrocia le dita. Sì, perché ho letto 500 euro, quello più caro, e se le partite sono 6, e 500 diviso 6, se la partita è 1 ma non credo. Però sono stati già colti bene? Ma sì, ho capito, certo. Allora, intanzitutto anche questo io e Giulia non sappiamo assolutamente niente, è un'iniziativa di Simona, no? Lo sappiamo, lo sappiamo e quando Simona che è il nostro capo, uno dei nostri capi, siamo a tre donne intanto negli uffici. No, ma che tre donne? C'è Laura Olivero che è la responsabile del palazzo, c'è Elisa Bergonzini che si occupa della comunicazione. Però quello che comanda è Stoic, vi imparate, capito, qua no? Vi dà gli ordini in preciso. Di gran lunga. Di gran lunga, bene. Diciamo, quindi c'è questo mini abbonamento che diciamo è una... Beh, allora cosa succede? Che noi avevamo fatto 3.300 abbonati, per i play-off è un macello, per la partita di Perugia non so quante richieste avremmo avuto. Quindi offriamo ancora la possibilità ai modenesi di assicurarsi, cioè non è che puntiamo la pistola perché uno lo faccia, diamo questa opportunità. E per farlo dobbiamo ipotizzare un numero di partite. Fallissimo, così l'ultima cosa, mi è venuta in mente, leggendo in rassegna stampa la gazzetta di Modena stamattina che dice che ormai il palapanini per la pilchia di questa squadra è troppo piccolo. È vero questa cosa? È benissimo. Ah, forse abbiamo una notizia. Quindi tiriamo giù il palapanini e facciamo uno più grande, no? No, beh, il palapanini non si potrà mai tirare giù, però lo sapete da anni. E di piuttosto, ma visto che Arrado ha chiesto un allenatore in più per il prossimo anno. No, ma anche quella lì, vedi, voglio dire, mi sono sentita male quando l'ho letto, ho detto vabbè, vado e andiamo direttamente lì, no? Forse è meglio fare... Con le sacche di zero negativo io, tu che gruppo sanguigno sei? Eh, io non lo so. Ecco, quindi tu, lei si tira già fuori, vedi così, così, lei fa così. Sì. Niente, voleva un allenatore in più, ho detto anche un allenatore. Voleva un allenatore in più, allora succede che voi... E una squadra fuori, anche una squadra di allenatore in più voleva. Voi l'avete chiamato per l'intervista mentre lui stava facendo allenamento, allora siccome è contro... Sì, però non è che l'abbiamo trascinato all'allenamento, era un suo impegno. No, però con qualcuno, lui se la deve prendere sempre, lì ha detto se voi mi fate fare tutto, le interviste, gli sponsor, le cene, le robe, le cose, allora prendetemi anche un altro allenatore. No, non è esattamente così, hai detto che c'erano vari punti di lavoro, situazioni di lavoro, dove il fisioterapista lanciava il pallone, non so che cosa. Però tu te lo immagini già, questo è arrivato, due campi, lui tutti normalmente fanno allenamento su un campo, lui due, quante macchine spara palloni? Tre, ha capito? L'importante è che il prossimo anno venga fatta una squadra forte e forse ancora più forte di questo, questo è quello che speriamo. Sarebbe importante, sempre per fare questo c'è bisogno di tutti, più forte è più... E tu sei contenta se questa sezione finisce come? Finisce, se finisce come? Finisce, arriviamo in finale, vinciamo lo Scudetto e... Ho capito, se no parte la scossa di Stoic, se non rispondi Scudetto... Va bene, abbiamo fatto questa bella chiacchierata con Katia e con Giulia, noi ci vediamo ovviamente strada facendo, da qui ai playoff che cominciano l'11 marzo, domenica c'è una partita di influente per la classifica con Padova, si parte l'11 marzo in casa con Milano, che è la prima tappa di questo playoff, che è quasi un derby per Giulia, visto che viene da Milano a Modena e quindi conosce bene quella strada. Grazie a Barbiere, clienti, te li trovo per la prossima settimana? Non ho fatto niente. Eh beh, pazienza. Però ti sei goduto un grande spettacolo, domenica, quello che basta. Un saluto Fabrizio, ciao Fabrizio, a presto, grazie ancora, a Katia e a Giulia per la sede con noi, noi ci vediamo la prossima settimana dopo il sborni elettorale di questo weekend, non vi ho chiesto se andate a votare, ma non è importante. Io sì, certo. Buonanotte, ci vediamo la prossima settimana. No, tu devi essere qua, non puoi andare a votare. No, tu devi essere qua, non puoi andare a votare.